Avevano qualche tipo di trasporto? Oh sì! Il tipo di trasporto che loro avevano è arrivato ai tuoi giorni sotto forma di leggenda dei tappeti magici. Qui lei ride, Dolores Cannon. Di base, loro potevano levitare senza problema perché sapevano come manipolare l'energia e la gravità. Quindi, generalmente, viaggiavano attraverso la levitazione. Ora, se a volte volevano trasportare qualcosa con sé ma non la volevano portare in mano invece di utilizzare l'energia per trasportarla separatamente prendevano un tappeto o qualcos'altro su cui sedersi e levitavano se stessi e gli altri oggetti sul tappeto. Vabbè, ma comunque utilizzavano l'energia per far levitare il tappeto. Cioè, potevano usare l'energia... Ah, però soltanto sul... Cioè, utilizzavano l'energia per far levitare il tappeto e non per far levitare se stessi... Cioè, risparmiavano sui bersagli dell'energia. Cioè, risparmiavano sui bersagli dell'energia per far levitare il tappeto. Cioè, risparmiavano sui bersagli dell'energia per far levitare il tappeto. Cioè, risparmiavano sui bersagli dell'energia per far levitare il tappeto.